Musica Omicidio Alcara, trovata dai figli senza vite e con una coltellata alla gola all'interno di una delle villette del centro d'accoglienza per migranti nel Catanese e giallo sulla morte di una nigeriana di 26 anni. Gli investigatori stanno interrogando il suo compagno. Scene da Gomorra, l'inseguimento, la sparatoria e il coinvolgimento dei familiari. Terrore ieri pomeriggio in via Brigata Osta a Palermo. L'obiettivo era un pregiudicato 29enne ma ad essere feriti sono stati il cognato e la madre del giovane e caccia ai due guzzini. Situazione drammatica. Il presidente della regione nell'Omusumeci fa il punto sul sistema gestione rifiuti nell'isola. Siamo davanti ad un'emergenza strutturata da ben 20 anni. Mirino su Bello Lampo. La discarica chiuderà tra un mese. Resto al sud. Una misura a sostegno dei giovani che intendono fare imprenditorie in Sicilia attraverso finanziamenti alle nuove attività o per l'ammodernamento di quelle esistenti. Via alle domande dal 15 gennaio. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Quello che avete appena sentito è il nostro sommario di oggi, giorno 3 gennaio 2018, ma prima un'ultimissima. L'aggressione di tre molossi sarebbe stata fatale per un corriere catanese morto proprio durante la consegna di un pacco in una villetta alla periferia di Portopalo di Capopassero, in provincia di Siracusa. La vicenda si è svolta incontrata a Pagliarello. La vittima è un 52enne. I proprietari della villetta si sono insospettiti dopo aver notato il furgone del corriere postale con il portellone aperto ma senza nessuno all'interno. Così hanno chiamato i carabinieri. I militari hanno trovato il corpo del fattorino vicino a un albero. Con sé aveva ancora il pacco da consegnare. I morsi dei cani a un polpaccio e sulle braccia ma non sui punti vitali. Sarà adesso l'autopsia a spiegare le reali cause del decesso. Ed è stata trovata senza vite con una coltellata alla gola all'interno di una delle villette del centro di accoglienza cara di Mineo, nel Catanese. E caccia l'assassino di una 26enne nigeriana. Adesso è stato interrogato il compagno della donna. La mamma sta male e a terra. Questo l'allarme lanciato dai due figli di Francis Miracle, la nigeriana di 26 anni trovata uccisa nella tarda serata di ieri all'interno del suo alloggio nel Cara di Mineo, il centro di accoglienza per richiedenti asilo nel Catanese. A scoprire il corpo della donna, ormai senza vite e con una coltellata alla gola, gli uomini del personale del Cara introdottisi all'interno di una delle villette della struttura per migranti dopo la richiesta dei due bambini. Quest'ultimi, al momento dell'omicidio, non sarebbero stati presenti. Subito avvertiti gli assistenti della Croce Rossa e gli uomini della polizia, che solo dopo diverse ore di ricerche hanno rintracciato il compagno della donna, Bill Miracle, all'interno del mercatino popolare della Fiera di Catania, portandolo in questura per essere interrogato con l'aiuto di un interprete. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, infatti, il compagno della Miracle, originario del Mali e di circa 30 anni, da tempo non viveva più nella struttura e nemmeno in Sicilia, bensì nel nord Italia. Tornato sull'isola con l'intenzione di portare via da lì la nigeriana e i due figli, si sarebbe scontrato con la volontà della 26enne di restare al centro di accoglienza poiché in attesa dell'asilo politico richiesto circa un anno fa al suo arrivo nella struttura dopo essere stata salvata dalla traversata in mare della Libia. All'interno dell'abitazione, inoltre, sarebbe stato rinvenuto un coltello sporco di sangue che adesso dovrà essere esaminato, così come gli evidenti graffi presenti sul corpo dell'uomo. Ancora a cronaca, una sparatoria in pieno giorno ieri a Palermo, in via Brigata Osta. Un obiettivo mancato per tre volte è il coinvolgimento di altre due persone. Si cerca di ricostruire l'agguato avvenuto ieri pomeriggio nel Palazzo di Ferro. Gli inquirenti stanno seguendo la pista passionale. Aspettavano che si affacciasse alla finestra del primo piano del Palazzo di Ferro, l'edificio al civico 56 di via Brigata Osta, per sparargli. L'agguato avvenuto ieri a Palermo era stato pianificato nei dettagli e l'obiettivo era uccidere il 29enne Francesco Fragale. A sparare al pregiudicato, per furto ed estorsione, due giovani in sella ad uno scooter. I colpi però non sono riusciti a raggiungerlo e Fragale è così scappato al secondo piano. Per le scale lo ha seguito uno dei due sicari continuando a sparare. Coinvolta anche la madre, giunta sul pianerottolo, Teresa Caviglia, di 49 anni, è stata colpita da un proiettile. L'inseguimento intanto continua. Il 29enne è arrivato al quarto piano del Palazzo, quando il suo guzzino ha sparato l'ennesimo colpo e lo ha mancato per la terza volta. Ad essere colpito, stavolta è stato il cognato del 29enne, Gaetano Lavecchia, un ragazzo di 24 anni. Un pomeriggio di paura e tensione fino all'arrivo della polizia. I feriti sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Villa Sofia. La donna è stata colpita al braccio, mentre il ragazzo all'inguine. Quanto alle indagini avviate dalla scientifica e dagli investigatori, il quadro sembra farsi sempre più complesso. I residenti del Palazzo di Ferro negano perfino di aver sentito i colpi di pistola. Sotto la lente è anche il misterioso zainetto, lanciato da una finestra tra il quarto e il quinto piano del palazzo, pieno di marijuana, insieme alle urla di una donna che testimoniavano il movente passionale. Il lungo lavoro degli inquirenti intanto prosegue per scoprire quali segreti si nascondono all'interno di quegli otto piani in cui abitano oltre 70 famiglie. Circa due anni fa, durante il processo Apocalisse, il pentito Vito Galatolo aveva raccontato di una latitanza di Matteo Messina Denaro proprio in quell'edificio sotto la responsabilità dei mafiosi dell'Acqua Santa. Gravissimo incidente a Siracusa, dove un ragazzo di 15 anni ha subito l'amputazione della mano dopo lo scoppio di un petardo. Il giovane si trovava con alcuni amici in via Vermexio, nel quartiere di Santa Lucia, quando ha raccolto per terra il petardo che è esploso poco dopo. Il 15enne è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, ma le condizioni della mano erano tali da costringere i medici all'amputazione. Sul caso indagano i carabinieri. Il presidente Musumeci affronta il problema dei rifiuti in Sicilia, mentre le discariche dell'isola sono vicine al collasso. La soluzione, mentre si procede al completamento di nuove opere e alla differenziata, potrebbe essere quella di portare fuori dalla Sicilia una parte dei rifiuti. Operazione Verità è ciò che il neoeletto presidente Ennello Musumeci richiama per parlare dell'emergenza rifiuti in Sicilia. Vent'anni di amministrazione regionale non hanno risolto un'emergenza strutturata, nelle parole del governatore, come quella dei rifiuti nella regione. Un problema che, già dalle ultime battute della presidenza Crocetta, riguarda più da vicino la discarica di Belo Lampo, ormai al collasso. Servono mezzi straordinari. La emergenza delle emergenze è rappresentata dalla discarica di Belo Lampo. Se nulla dovesse cambiare, fra qualche settimana, noi non avremmo nella Sicilia occidentale dove portare i rifiuti. Nel resto dell'isola la situazione non è migliore. Abbiamo soltanto alcuni mesi di tempo ancora e le discariche arriveranno al collasso. Purtroppo non sono state adottate le misure necessarie e dopo vent'anni ci ritroviamo in questa condizione. Quello che Musumeci propone per evitare la chiusura della discarica palermitana entro un mese è ciò che ha anche chiesto il Ministero e che metà delle 5.000 tonnellate di rifiuti giornalieri che riceve vengono portati fuori dall'isola. Da considerare è dove condurli e in che modo farlo. Portare i rifiuti fuori bisognerà farlo per almeno 8-10 mesi. Le regioni italiane non sono più nelle condizioni di assorbire rifiuti da parte di altre regioni se non per pochi giorni e noi servono per diversi mesi e stiamo tentando con un bando pubblico di intercettare una disponibilità fra i paesi europei. Serve la raccolta differenziata. Domani intanto era chiesto al Governo il conferimento di poteri straordinari per lo stato di emergenza ambientale. Ed è emergenza anche ad Agrigento. Un solo medico per centinaia di pazienti una sola ambulanza per l'intera provincia è attese al pronto soccorso fino a 13 ore. L'allarme è arrivato proprio dai cittadini. La direzione dell'ospedale però risponde colpa dell'iperafflusso. Pazienti lasciati sulle barelle ad aspettare ore di attesa per i referenti co-detenzioni. Anche nel 2018 il nuovo pronto soccorso di Agrigento appena inaugurato ripropone le vecchie emergenze e ad annotare le lamentere degli utenti esasperati gli agenti della polizia. A chiamare le volanti sono stati i propri cittadini che dopo aver aspettato bene 11 ore di attesa hanno voluto chiedere a gran voce i propri diritti temendo per i propri cari ammalati. Testimone di quanto accaduto anche un consigliere comunale di Palazzo dei Giganti Salvatore Borsellino che racconta mi sono trovata in ospedale vista la grave condizione di una mia strettissima parente con un ischemia in corso che doveva essere trasferito urgentemente a Palermo al fine di essere sottoposto a un delicato intervento. Dopo ben 13 ore di attesa nulla si è mosso solo un medico presente per centinaia di malati gravi che non ricevevano alcun assistente urgente aggiunge Borsellino una sola ambulanza per l'intera provincia di Agrigento che forse ironizza doveva arrivare da Marte con utenti ammalati gravi in attesa mi appello con forza conclude il consigliere Borsellino al direttore generale Venuti da utente e da politico dicendo che è vergognoso il modo in cui viene gestito questo ospedale a breve interrogheremo l'assessorato regionale alla sanità e non solo e le criticità del momento sono state confermate anche dalla stessa direzione dell'ospedale ma le cause sono state ribaltate su fattori differenti per il direttore Antonello Seminerio a causare dei servizi è stato il momento di perafflusso e non si è trattato di un problema di struttura e i rallentamenti e le cause avrebbero a suo dire creato disagi solo i malati non gravi ricorre oggi il centocinquantesimo anniversario dall'uccisione di Angela Romano la bambina di nove anni trucidata insieme alla sua famiglia perché accusata di brigantaggio oggi l'Italia si ferma nel suo ricordo il 3 gennaio 1862 sulle alture del Monte Inici di Castellammare del Golfo veniva trucidata la piccola Angela Romano Angelina affettuosamente chiamata insieme all'intero nucleo dei suoi familiari aveva appena nove anni parliamo della rivolta da Ecutrara andata in scena nei primi tre giorni di gennaio di 155 anni fa a Castellammare del Golfo in Sicilia come si legge degli appunti di Ignazio Coppola fu la rivolta dei poveri siciliani che non volevano passare 5 anni della loro vita a servizio dell'esercito piemontese i giovani delle famiglie ricche pagavano e venivano esentati dalla leva i poveri dovevano piegarsi alla prepotenza di casa Savoia da qui la ribellione repressa nel sangue dai piemontesi che passarono per le armi vecchi donne e persino una bambina nove anni una storia di violenza e di crudeltà che i libri di storia del nostro paese tuttora incredibilmente ignorano ma ascoltiamo quanto rilasciato telefonicamente da Antonio Ciano meridionalista convinto e che anni fa riuscì a fare intitolare una strada alla piccola Castellammarese in un comune della Calabria ma anche nella propria cittadina Campana i libri di storia sono tutti manovrati dalla massoneria che ha fatto quel tipo di unità d'Italia e ha intitolato strade e monumenti a questi delinquenti che per noi sono criminali di guerra qui hanno fatto 4.000 morti tra militari e civili 4.000 a Castellammare l'avete intitolata una strada ad Angelina Romana che sia in tutta Italia così una misura a sostegno dei giovani che intendono fare imprenditoria al sud attraverso finanziamenti dal valore di oltre 1.000 milioni di euro Resto al Sud permette di avviare così attività di produzione di beni e servizi dettagli Si chiama Resto al Sud ed è la nuova misura di sostegno ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono fare impresa nel mezzogiorno L'attività imprenditoriale potrà essere avviata così nelle regioni Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia e Sardegna Il progetto è promosso dal Ministro per la coesione territoriale del mezzogiorno e ha una dotazione complessiva di 1.250 milioni di euro che verranno gestiti da Invitalia È possibile avviare la produzione di beni e servizi sono escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e il commercio Ogni soggetto richiedente può ricevere un finanziamento massimo di 50.000 euro Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti già costituiti o in via di costituzione il finanziamento può arrivare a un massimo di 200.000 euro Il 35% dell'importo richiesto sarà erogato a fondo perduto e il restante 65% sarà un finanziamento a tasso zero da restituire in 8 anni sull'80% del quale farà da garante lo Stato Possono essere ammessi al finanziamento interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili impianti, attrezzature, macchinari nuovi programmi informatici e tecnologie per l'informazione e la telecomunicazione spese utili all'avvio dell'attività Non sono ammissibili spese di progettazione, consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dal 15 gennaio e devono essere compilate esclusivamente per via elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet di Invitalia Occorre registrarsi sulla piattaforma dedicata disporre di una firma digitale e di un indirizzo PEC Le domande verranno valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla data di presentazione Ancora un passo indietro per la Sicilia occidentale in merito agli incidenti verificatesi sulle strade statali e sulle autostrade nel solo 2017 Cresce il numero delle vittime di sinistri così come quello delle patenti ritirate e dei conducenti risultati positivi ad alcol test o drug test Terminato il 2017 è tempo di fare bilanci e tra questi rientra anche quello in merito agli incidenti stradali verificatisi sulle autostrade e strade statali della Sicilia occidentale i cui dati mostrano un quadro decisamente negativo rispetto al 2016 4 in più le vittime per un ammontare complessivo di 20 persone a fronte delle 16 dell'anno prima con 17 incidenti mortali contro i precedenti 14 630 i feriti rispetto ai 586 del 2016 con ben 750 sinistri rilevati dalla polizia stradale 34 in più rispetto l'anno prima 13.194 le pattuglie di vigilanza impiegate dalle forze dell'ordine che hanno accertato oltre 45.000 infrazioni del codice della strada ritirato 1.304 patenti di guida 2.149 carte di circolazione e decurtato complessivamente 50.312 punti boom di sanzioni dovute ai controlli della velocità tramite autovelox e telelaser che hanno consentito l'accertamento di circa 1.600 violazioni dei limiti consentiti 42.142 conducenti sono stati sottoposti tra alcol test e drug test con un risultato di 16 denunce per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e 136 sanzioni per stato di ebrezza alcolica ma non solo nello stesso bilancio effettuato dalla polstrada emergono anche diverse irregolarità circa il trasporto di merci e i fini di lavoro e commercio per il 2017 infatti su 1.825 veicoli pesanti controllati 1.610 hanno commesso infrazioni tra cui esercizio e trasporto abusivo scorretta sistemazione del carico inosservanza dei tempi di guida e riposo e violazione dei limiti di velocità 6. infine le ordinanze di custodia cautelare emesse con le accuse di associazione per delinquere finalizzate a riciclaggio, ricettazione di autovetture e truffe ai danni delle compagnie assicurative e passiamo allo sport il basket si è virtualmente chiusa dopo appena otto minuti la gara della tredicesima giornata di serie A di pallacanestro tra la Betaland capo d'Orlando e la Reier Venezia sonoro 59 a 91 inflitto dai campioni d'Italia ai siciliani Doveva essere la classica serata da Orlandina una di quelle che i paladini non falliscono quasi mai continuando a fare ciò che riesce meglio loro ossia stupire invece la prima del 2018 al Palace che gli archivi si è rivelata una disfatta per la banda di coach Gennaro Di Carlo Venezia fa la voce grossa giocando un match da campioni d'Italia in carica e regolando la Betaland per 59-91 decisivi i 34 punti segnati dai lagunari nei primi 8 minuti di partita ponendo le basi per un'amministrazione controllata che durerà sino alla sirena finale per la Reier 8 uomini a segno di cui 4 in doppia cifra e un controllo del ritmo pressoché totale a nulla è servita la timida reazione dei siciliani nel secondo quarto Orfani di Azzur è tenuto a riposo precauzionale e anche di Ikovlev messo K.O. da un problema fisico prima dell'intervallo non sono bastati 15 punti e 4 rimbalzi di Alibegovic così come i 14 di un culboca da 3 su 6 dall'arco e 4 rimbalzi per gli orlandini da registrare il primo quintetto stagionale di Stojanovic in campo per 27 minuti è capace di contribuire anche con 6 rimbalzi e 2 stoppate a fine gara il mea culpa dell'allenatore paladino abbiamo pagato un inizio gara da parte di Venezia imperioso e questo credo abbia condizionato sostanzialmente tutta la gara le scelte per arginare questo loro inizio chiaramente sono le mie e quindi mi assumo la responsabilità di queste scelte gara d'archivere rapidamente per l'orlandina che si ritufferà da subito nella preparazione del prossimo impegno domenica 7 gennaio a mezzogiorno in casa della Red October Bercantù era l'ultima notizia siamo in chiusura vi lasciamo adesso al meteo grazie per averci seguito arrivederci ben trovati a un nuovo aggiornamento meteo diamo subito uno sguardo alla giornata di giovedì che vedrà sempre il veloce passaggio di qualche perturbazione a ridosso dell'arco alpino con le nevicate sulle alpi settentrionali localmente anche qualche barrovascio di neve e altrove poche le conseguenze sul basso tirreno le zone più interne appenniniche qualche isolato piovasco altrove clima asciutto andiamo a vedere la mappa della nuvolosità ci fa vedere di fatti guardate sempre il passaggio di qualche fronte nuvoloso dal nord atalantico in particolar modo a ridosso dell'arco alpino ma poi anche alcune zone del centro-sud come detto un contesto di spiccata variabilità e infine la mappa dell'Italia ci fa vedere appunto una giornata nel compresso asciutta anche delle schiarite in pianura padana zone costiere del centro-sud anche la Sardegna qualche isolato piovasco i rilievi soprattutto appenninici e le nevicate a ridosso dell'arco alpino ovviamente parliamo della parte settentrionale quindi oltre alpe temperature grosso modo invariate con questo per il meteo è tutto aggiornamenti sull'app di Trevi Meteo di Trevi